Ciao, sono Costantino Biontocchi, oggi vi racconto una casa. Appartamento in un palazzo dei primi del Novecento, appena stato restaurato ed è un connubio fantastico tra il vecchio e il nuovo, vedete le cementine ancora dell'epoca, a terra e un balcone che affaccia sull'interno. Ora vi porto nella zona giorno, che è stata completamente ristrutturata, dove troviamo un ampio living con cucina tutta ad arredare all'americana, parche in spina ungherese in rovere e venite con me a vedere l'appaccio su una delle vie del cuore di Porta Romana. Andiamo a vedere la zona notte che è uno spettacolo. Prima camera da letto matrimoniale, con esposizione molto interessante e luminosa. Seconda camera, che può essere tra l'altro anche considerata come camera studio, ed ora la chicca finale della casa, la master bedroom. Come in ogni camera, impianto di aria condizionata canalizzata a aerozone della Daikin, bagno in suite e affaccio sulla via. La casa che hai appena visto sono 135 metri quadrati e il prezzo lo trovi in descrizione. Si sa che gli immobili che era la Toscano, cioè io solo la Toscano.